Allora, Marnella è già venuta a Brescia e adesso stasera è tornata qui. Anna Spogli, lei è bellissima. E suona il violino. Ma c'è pure il gruppo Campania. Situazione, Silvia. Giovanna. Giovanna. Giovanna, come stai? Ma tu sei Nick Giovanna? No, è Loredana. Ah, è Loredana. C'è figlia, la conosce a Castilla. Vado? Mi cazzo, me la fanno ricordare tutti. Faccio delle figure di me. Eravate in prima fila, ragazze, siete state mostrianti. E' un po' raccomandante. Dai, ma se... Sì, sempre. E' importante bene. Sì, scelta un bacio. Non ti vieni. Se andate a fare un DVD e ci andiamo con un tasco. Ciao, ma te lo vengono a me, Tony. Tony? Cioè... Eh sì, interveniamo forse meglio. Sì, c'è il lampo della... Scusate, Sergio e Marnella. Una, venti e facciamo. Marnella. Ecco qua. Ci abbiamo già risotto. Ecco, vorrei... Mi aiuto adesso tutti. Ciao. Salve. A me lo scattino, vedi un po'. Salve. A tutte, infatti. Lei devo dare... Le devo dire se mi può... Sì. Lui mi chiama e mi piace. Sì. Alla prossima. Alla prossima. Mi posso abbracciare? Bene, mi siedo se no... Vado. Mi posso dipicare? L'aria. E questo? Sì. Grazie. Perché se no... No, altrimenti diventa un certo di tre ore. Non so più come... Comunque è stato bellissimo. Grazie, Gloria. Ciao. Noi siamo già visti? Ah, non già? Ah, esatto. Sì. Se fai. Lo ho visto, lo ho visto a fare. Domani è fatto il sole. Domani? Sì. Mi fa testo. Ragazzi, accendiamo un po' a questa pratica che ci sono... Quanti sono su cinquante? Esatto. C'è un gruppo Campania che ti aspetta. E quanti sono? Eh, se è un gruppo non sono due. Alla prossima. Alla prossima. Aspettiamo. Domani, domani compriamo a San Marino. Sì. Sì. Buonasera. 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 Sì, sì. Buonasera. T 움직iamo. Dovresti baciare i calzini rossi che portano fortuna. si è diventata più grande però? si è diventata più grande sono pazzesche ma loro sono taccolato noi veniamo sempre, adesso siamo tre ore ti prego, fai questa ripresa fai questa ripresa perché noi veniamo tutti concerti sei un grande è una situazione l'ho già fatto, ho fatto l'Ostonia ed è buono, è buono che è lei? le cantavano tutte? ah, faccio veloce che così è diversa la locandina compare? la locandina è diversa si ma non scrivi grazie 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 ciao puoi dedicare a Claudia per favore? a Claudia? si ragazzi lei è Laura di Ravenna è buona canta benissimo, ha una voce della Madonna è buona libera nell'aria libera nell'aria mamma dov'è? a casa bravissimo come al solito grandioso direi proprio grazie grazie oh quanto la fai? mette la cassetta? quanto c'è lì? ma non c'è buona serata anche a te ciao ciao ragazzi Cristian e il Rob questa è la storia venite tutti dentro abbiamo una cosa abbiamo una sorpresa per te abbiamo una sorpresa per te questa è pazza comunque ma non è storia buona ragazzi mi schierate un attimo storia buona abbiamo l'avvocato devi venire perché io prendemi l'avvocato guarda che miniatura che donna che donna madonna vieni la cosa guarda che donna vieni la cosa la mia città la mia città è ragazzi volete farvi un altro una maglietta sergino visto che gli striscioni ormai te ne abbiamo dati che parola è? che parola è? questo è l'ultimo ma la mia città non l'ultimo sono l'ultimo ma la mia città ma la mia città questo è diabolico la notte non donna queste cose vedi cosa Che non sta bene Manca una maglietta Ragazzi se dobbiamo fare la situazione Facciamola Se no quelli su ci linciano Ci manca una maglietta Ma mettiamole sotto a lui No Ma la G dov'è? Ragazzi forza Manca la G Chi ha la G? Ma soprattutto sta l'estero E se non ce l'ho io la G Vai 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 It's good It's good It's good Alla ho fatto la storia It's good It's good È una bella storia Hai capito? Dai velocemente non fate come Brescia Con questo cosa vorresti dire? Grandi Ragazzi Ragazzi Vengamo Vengamo Presente a tutte le dame Non ho capito la situazione È buona Troppo d'arte Storia buona Batezza Fai qualcosa Esaminò Il battesimo è buono Grazie Grazie ancora Grazie È molto buona Con sorriso buono Fai come a piacere Buona mia Bellissima Ti ringrazio Adesso vogliamo cambiare la situazione Tutto ok? Ok Ti lascio perché Buona Grazie a tutti